Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti, dizionario del Cerchio Firenze 77 Dai mondi invisibili A. Oltre l'illusione B. Per un mondo migliore C. Le grandi verità D. La voce dell'ignoto E. Oltre il silenzio F. Maestro perché G. La fonte preziosa H. A cura di V. B. Anacoreità. Una Anacoreità può essere molto più avido di un ricco mercante. La psicologia dell'uomo è complessa e può rivelare motivazioni di condotte assolutamente insospettate. Vedi io? 77 D.